Cahidi, vittoria con gol, sei stato bravo a sbloccare i risultati, insomma una gioia doppia per te. Beh certo sì, dal primo gol stagionale sono molto contento, però l'importante era vincere, oggi non era facile, infatti si è dimostrato così. Non ci sono squadre a materasso e quindi giochi contro squadre tra virgolette più piccole. Infatti se visto il primo tempo loro facevano molto bene la fase difensiva e quindi non era facile trovare spazi. Noi il nostro gioco è tutto finalizzato per i due attaccanti e non riuscivamo a dargli palla, però grazie anche forse al mio gol che l'abbiamo sbloccata siamo riusciti a trovare qualche spazio in più. Poi il secondo tempo è venuto fuori le qualità che abbiamo sopporto davanti e niente, grande vittoria. Si pensa già a questo derby, tifosi sono già proiettati alla gara del Fattori. Questa settimana, tra l'altro si giocherà di domenica, sarà anche più lunga del solito, ma soprattutto probabilmente sarà una settimana particolare perché si parlerà sempre e sempre di più di questa sfida con l'Aquila. Beh certo, è una bella partita, è un derby, è una partita importante, però noi dobbiamo lavorare come lavoriamo tutte le settimane a testa bassa. Presidente Vivarini non guardano la classifica, voi nello spogliatoio la guardate? No, no, è giusto perché comunque noi siamo una squadra che comunque si trova lì e dà molto entusiasmo, però non dobbiamo guardare la classifica perché se no manca troppo, ecco, mancano tante partite, quindi è bellissimo stare lì e quindi quello non lo nego, però non bisogna guardarla, è ancora presto. Tornando alla gara dell'Aquila, c'è anche da vendicare la sconfitta dell'andata, una sconfitta che probabilmente vi scotta ancora parecchi? Beh certo, una sconfitta non è mai bella con chiunque giochi, quindi c'è da vendicare l'andata, ma soprattutto c'è da fare punti per la classifica perché è importante. Grazie a tutti.